Ciao bimbi, sono la maestra Martina, oggi insieme prepariamo una torcia magica, ci servono due rotole di cartigenica, due disegnini, io ho disegnato un cuore e un fiorellino su un cartongino bianco, una matita per disegnare e una forbice. Io mi sono già portata avanti, ho già fatto i disegni, quindi adesso vado a ritagliare il mio cuore e il mio fiorellino, voi per ritagliare fatevi aiutare da mamma e papà, e praticamente questi disegnini andiamo poi a attaccarli con lo scotch sul rotolo di cartigenica, in questo modo, li poggiamo sopra e mettiamo poi sopra lo scotch, ritaglio anche il fiorellino, voi fate i disegni che preferite, poi vedrete che il risultato sarà fantastico, andiamo a creare tipo un laser con i disegni che abbiamo fatto, voi potete fare i disegni che preferite, anche un super eroe, così potete proiettarlo sul muro della vostra cameretta, ecco qua anche il fiorellino, adesso tagliamo un pezzetto di scotch, o anche due, vedete voi, in base a un po' come attacco, di scotch trasparente, mi raccomando, non lo scotch quello colorato, eccoci qua, le nostre torce sono pronte, adesso con la torcia del cellulare o con una torcia piccola, quello che volete, andiamo a proiettare la luce all'interno del rotolo di cartigenica e successivamente vedrete che verrà proiettato sul muro il nostro disegnino, adesso vi faccio vedere, ecco qua il nostro cuore, avete visto? Proiettato sul muro e adesso vi faccio vedere anche il fiore, ecco qua il nostro fiorellino, l'avete visto? Provate anche voi bimbi, mi raccomando, è molto semplice, ciao, un abbraccio! Ciao! 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 Ciao!